Buona domenica della redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPILI. Lo svincolo rosignano marittimo in A12 resta chiuso in entrata verso Genova e in uscita provenendo da Genova fino al 21 marzo. Lavori a alta tensione in via chiusi a Firenze dal 7 marzo, restringimento da via Canova, distretto socio-sanitario, senso unico verso via Gubbio, percorso alternativo via Massa, via dei Bassi, via Canova. Fino al 18 maggio ci saranno lavori notturni sulla linea ferroviaria Firenze-Roma, variazioni per i treni intercity notte e regionali. Dal 4 al 17 marzo stop ai treni Campiglia-Piombino per manutenzione dei viadotti, previsti bus sostitutivi e modifiche ai regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!